ok allora il materiale di cui abbiamo bisogno ovviamente il nostro filo io utilizzo questo da 050 sempre di rame argentato delle perline e il colore qualsiasi colore avete perché più o meno le gerbere sono di tutti i colori per i petali e poi questo verde che voi vedete scuro ma in realtà è molto più più chiaro lo avete visto nella foto iniziale per fare il centro allora in alternativa ad un verde chiaro potrebbe andar bene anche una perlina scura perché se guardate le foto online trovate gerbere che hanno il centro chiaro il centro scuro insomma un fiore un po così per cui l'unico consiglio che vi mi sento di darvi è di non scegliere le nere quindi o marrone oppure un bronzo scuro va comunque bene poi il mulinello perché faremo un'infilata unica taglierina e pinze per il filo e al solito e io utilizzerò solita bacchetta quella sottile di metallo e questa di legno per le orchidee per fare un po più di spessore del gambo e ovviamente per ricoprire il tutto la gutta perca verde ok partiamo perché ho già fatto la mia bella infilata di perline e in questo caso faremo una lavorazione che si chiama nella serie non pesa niente faremo una lavorazione che si chiama asola doppia fondamentalmente allora io mi sono già infilata un po di perline lascio giusto perché avevo fatto il nodo perché non uscissero circa sapete che mi tengo sempre larga una quindicina di centimetri giusto per avere poi da poterlo agganciare al gambo ok inizia allora la la sola mi metto una foto perché a me piacciono le gerbere petalose è entrato poi questo termine nel dizionario nel senso che mi piacciono quelle che hanno tanti 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 petali sono quelli che sono delle margheritone ma ce ne sono altre che hanno petali più grandi più piccoli e io farò quella quindi dobbiamo decidere quanto grandi farle allora ok allora facciamo la prima asola vi prendete circa poi dipende dal gusto vostro di quanto grandi volete fare i petali però circa 4 cm di perline fate l'asola ovviamente ve la sistemate in modo che sia una soletta ok e fate un paio di giri del filo vicino vicino al alla fine qui poi e questo guardate quanto è difficile fare il doppio la doppia asola prendete altre altre tante perline dovete coprire la distanza da qui appiattite un po la distanza dalla base alla punta ok prendete le perline che coprono esattamente la distanza vediamo se riesco a farlo vedere eccolo qua le schiacciate bene ok e rigirate il filo dietro in modo che si incastri proprio nel petalo vediamo se riesco a farvelo vedere ok e qui andiamo di perline per rifare lo stesso discorso e per arrivare alla base e rigiriamo questa fondamentalmente è la doppia asola così avete un petalo più più pieno praticamente vedete ok poi ci sono varie scuole di pensiero io non è una cattiva idea per mantenere la stessa distanza tra le asole c'è chi lascia un paio di perline prima dell'asola successiva perché perché così le avete più o meno tutte alla stessa distanza e un po coprite anche il filo vedete voi se farlo o no io lo faccio poi ovviamente vedete voi allora l'ideale sempre avere un righello per segnarvi quante perline fare se come me in questo momento non ce l'avete tanto lo faccio vedere un altro passaggio rigirate guardate che sia uguale come misura e poi andate avanti insomma l'ideale sempre farle se avete ovviamente perline regolari andiamo di seconda asola rigiriamo bene alla base delle delle asoline schiacciamo un po uguale schiacciamo bene per arrivare qui si incastra il filo vediamo se si vede ok arrivate qui schiacciate bene il filo ok e ricoprite la stessa distanza sul lato retrostante sempre fino alla base ok vedete che qui abbiamo lasciato le due perline ok prendiamo fino ciò posso fare che vi inganna eccola qua ne prendiamo fino alla base e rigiriamo aspettate che ti fa eccolo qua vedete così abbiamo sul filo mantenuto solo queste due perline di distanza credo si sia capito il meccanismo quindi io adesso vado avanti fino a fare un numero soddisfacente di petali farò siccome più o meno insomma la dimensione la scegliete voi perché ci sono gerberi un po più grandi un po più piccole vedete voi quanti farne almeno almeno direi sette almeno io ne farò work in progress almeno sette di questa dimensione poi li farò un pochino più grandi così poi le posiziono dietro un po più grandi quindi io continuo e ci vediamo quando ho finito tutte le perline fatto il giro ok allora ho continuato nel mio work in progress mi sono fermata a 11 avevo detto sette come al solito allora sì aspettate che riconto sì sono due quattro cinque dieci undici sì perché farli pari non mi piaceva perché ho detto richiudendoli a cerchio mi sembra che abbiano una forma comunque sufficiente anche perché non mi andava di farne tanti di più quindi l'unica cosa da fare è prendere ovviamente i due lembi quello iniziale quello finale del filo e fermarli insieme e il primo giro lo avete fatto allora l'ideale sarebbe in tutto ciò riuscire a portare il filo magari quello più lungo che avete sull'altro lato perché poi andremo meglio a montarlo quindi se riuscite lo passate dall'altra parte altrimenti nulla cambia e non non succede niente anche se si vede il filo non non c'è non è grave la cosa perché andrà a coprirsi con la corolla centrale quindi è per quello che vi dico questo passaggio di mettere le due perline tra un tra uno e l'altro non ha in realtà molto senso perché non non c'è una cosa estetica da coprire ecco mettiamola così non so se mi se mi spiego in questo senso ok cerco di passarlo tra una perlina e l'altra che abbiamo messo alla base anche se comunque il filo si vede ma è giusto per non per non fare chissà quali sforzi di me anche perché questo filo io ve lo dico così se riuscite a farlo passare all'interno della corolla bene ma questo 050 non si infila non riesco a fare due giri infilarlo due volte all'interno di queste perline quindi ok sono tutte che non vado anche troppo avanti eccoci qua sì sono arrivata praticamente dall'altra parte se vedete una di qua e uno di qua ok così poi quando lo chiudiamo ce li abbiamo perché dobbiamo poi montarlo centralmente quando lo chiudiamo siamo più o meno paralleli ok perché poi dovremmo fare questo discorso per metterlo più in centro ok eccoci qui allora non ho infilato tantissime perline perché non ci serve molto allora utili io utilizzerò la tecnica del palo anche se non è proprio il massimo andrebbe fatto quello a raggio ma insomma siccome il centro è comunque piccolo perché ci servono circa due centimetri di diametro io mi tengo comunque 7 8 centimetri perché sapete che voglio stare sempre comoda ma basta anche un po meno e rigiro il filo al solito lo rigiro su se stesso per bloccarlo ok e poi inizio a fare il centro il centro in questo caso lo facciamo molto molto piccolino in base alle perline che avete decidete se metterne una o due nel filo 2 e 4 facciamo così vediamo se riesco a farvelo vedere eccolo qua spero che si veda sono due sul palo e 4 sul filo ok rigiro altre quattro qui cerchiamo proprio di essere precisi perché altrimenti non viene rotondo rotondo non viene comunque rotondo ma il senso è quello ok altre quattro e rigiriamo stringiamo proprio bene bene altro giro altra corsa e qui prendiamo quelle che che coprono la distanza so che non si vede benissimo ma le perline sono chiare avrei potuto farvelo con lo scuro a dire il vero però mi servono per un'altra cosa ok e andiamo avanti così fino a raggiungere il diametro che ci serve per coprire il foro centrale della della margherita che abbiamo fatto assieme non servirà tanto più di questo ok ok io direi che tre giri bastano chiudo il lavoro quindi qua mi aiuto con una pinza e rigiro così si blocca ok arrivati a questo punto dobbiamo fare una serie di asole tutto intorno perché ha una decorazione un po simile a quella del girasole e ci sono due modi per farlo o fate le asoline e passate il filo tipo ogni tre perline in modo da bloccarlo oppure lo fate fate una delle asoline a sé stanti e poi legate tutto insieme io con voi vorrei provare a fare quella che passano qui si passa sotto ok allora mi tengo e qua lo facciamo un po di perline non tante circa un centimetro di girato anche meno lo rigiriamo gli diamo la forma un po dell'asolina prendiamo il filo e lo passiamo all'interno del dell'ultimo giro che abbiamo fatto ok e blocchiamo più o meno è perché più o meno il filo come abbiamo fatto per le asole allora qui con il filo un po curvo cerchiamo di farlo ogni almeno ogni due perline più o meno in modo che sia abbastanza stretto ok ne infilo altra lo qui ho infilato sette perline quindi cerchiamo di farli più o meno tutti uguali con queste perline semitrasparenti non vedo neanche qual è il senso quando sono 6 7 porto alla fine ok faccio un'altra asoletta piccolina ovviamente cercate dagli la forma più tondeggiante possibile più che a punta mi sa che poi ho messo forse una perlina in più no sì ne sono persa una per strada l'idea è quella di mettere perline sufficienti che non vi faccio la punta ma che mi faccia un po di tondino in modo che sia un po più carino da vedere e ripassiamo lo stesso il filo sempre sull'ultimo giro facendo attenzione che non vi faccia la soletta quella antipatica dico io ovviamente è più facile e veloce fare quella che vi fate le asolette e poi assemblate tutto assieme però secondo me così è più carino e avete dei fili meno da da assemblare poi alla fine 5 6 7 e 8 che è meglio ok anche qua filettino e passiamo il filo sotto penso che si sia capito il meccanismo quindi io vado avanti perché con la fotocamera in mezzo faccio ancora più fatica ok come vedete stanno fissi quindi insomma va più che bene continuo e ci vediamo quando finito il giro eccoci qui allora ho realizzato la coroncina ho fatto un primo giro di asole poi ho detto perché no e ne ho fatto un secondo passando il filo tra una e l'altra praticamente così viene un po più piena ecco solo solo questo niente non ci sono passaggi strani ok quindi poi qui sul retro ho riportato ma in realtà ho solo piegato un po il filo per riportarlo verso il centro così poi lo sistemiamo sullo stelo ok dopo aver fatto questo io ho realizzato una corolla più grande perché sapete che le margherite le gerber in generale hanno comunque tantissimi petali e l'ho realizzata allora queste sono partita con 4 cm per fare l'asola quindi poi sono 2 cm rigirati questa l'ho fatta con 10 quindi sono 5 rigirati ok il senso è lo stesso qui ne ho fatte andate un po occhio nel senso che dovete un po vedere quanto vi piace piena diciamo così io ne ho fatti 25 quindi fatevi il conto voi sono circa 20 cm per per asola per poi inserire le perline sul sul filo le ho legate poi ho fatto due giri quindi fatto tipo un giro da 12 e uno da 13 insomma ecco quello è il senso anche qui mi sono riportata con i fili uno da una parte e uno dall'altro ok e adesso vediamo insieme come montarla allora mettiamo tutto insieme ovviamente dobbiamo infilare qui questo vediamo intanto come viene ok questo è il senso della e poi sistemeremo meglio i petali ma intanto dobbiamo vedere quanto va ok allora il senso è questo quindi possiamo fissare il tutto qui sotto cercando di non lasciare l'aschi sempre le campane che mi accompagna ok di questo però file di diversa lunghezza ma poi ci sistemiamo allora è un fiore un po pesante quindi dobbiamo regolarci un po una volta intrecciati tutti i fili possiamo direttamente montarla sul bacchettino se preferite potete realizzare un'altra piccola giro di asole non come questo ovviamente solo quello esterno per coprire qua sotto allora io l'ho già fatto ho realizzato e già chiuso a cerchio ho fatto 9 asole ma insomma fate in modo di coprire la distanza il cerchietto qua sotto ovviamente un pochino più stretto perché va a coprire un po i fili e ho fatto asole da 9 perline e una l'ho lasciata sul filo in modo che questo si rendesse un pochino più carino tutto il lavoro quindi lo inserisco all'interno del dello stelo che ho già creato e vedete va a coprire un pochino tutto l'ambaradan allora il senso è comunque quello che adesso dobbiamo fissarlo al allo stelo centrale allora io come prima vi consiglio di passare un filo da una parte all'altra in modo che è riuscito ad agganciarlo un pochino meglio eccoci qua abbiamo fatto lo stesso lo stesso lavoro ok lo teniamo fermo e agganciamo anche questo al allo stelo che abbiamo già creato ok vedete che così risulta più carino anche diciamo sotto bene possiamo montarlo allora io mi tengo questo oppure no intanto intanto rompo questo qui che fa spessore che è il gambo dove si rigira il filo ok ok a questo punto non ci resta che fissare la bacchetta allora io ho già unito insieme con lo scotch di carta la bacchetta quella di acciaio e quella di legno l'ho tagliata a 25 centimetri queste di acciaio sono lunghe 50 semplicemente perché se no riuscivo dalle inquadrature non riuscivo a montarvela quindi adesso la infilo approfitto un po dell'altezza che si è creata nei vari spessori diciamo tra sopra e sotto in modo che sia un pochino più all'interno ok fate magari un po di forza o magari potete inserire anche solo la bacchetta quella di acciaio e poi attaccare più giù quella di legno ok in modo che sia già un pochino piantata e arrotolate lo stelo io vi consiglio di farlo da qua così so che sono tanti fili e quindi fa un po cicciotto però dico un po pazienza ok io non realizzerò foglie perché se fate caso non ci sono le foglie delle gerberi restano basse sulla pianta quindi non quando andate a comprare dal fioraio fiorista quello che è come si dice fioraio fiorista ovviamente non non ve le danno le foglie quindi io non lo faccio perché non è una pianta ma un gambo è solo uno stelo accoccio ok allora ne approfitto visto che ho questo lungo lo giro un pochino e anche se uno solo da un po di stabilità e ora butta perca come sempre allora l'attacco ben bene qui faccio un po di giri qui alla base in modo da creare questo attacco e scusate ma io qua devo forse uscire un po dall'inquadratura forse ce ne affaccio vediamo del viene taglio un pezzetto se non riesco intranosso io non sopporto la butta perca perché così appiccicosa poi fanno affattica ad andare via la colla dalle mani vabbè eccoci abbiamo fatto il primo pezzettino in modo che resti un po più in degrade visto che c'è anche tanto filo e poi facciamo tutto il resto come al solito ecco qua e voilà la nostra gerbera è finita adesso ci può anche 25 centimetri un po lunga adesso non ci serve non serve altro che sistemare un attimino i petali ma il senso è quello penso che sia venuta abbastanza pieno come fiori come fiore ecco di solito è molto più taloso che dite ok spero di esservi stata utile noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao